ciao ragazzi ciao ragazzi veniamo il mio amico che mi ha mangiato più che altro come le arrivate ma azzurra vado sì ce l'ho letterina anche bellina vezzi pensi mancante ho un letto vezzi i regatini e il disegno sono da piccoli via di 4 anni che vi vuole bene 4 anni figli di schia bellino bellino guarda bravo piaggio box 4 anni è bravissimo vabbè ha scritto lui si è l'elia appunto vediamo che disegno 4 anni e mezzo non lo so io 4 anni l'elia 4 anni e mezzo io non disegnavo io 4 anni io 4 anni andavo su una rosa sì arrivo accidenti l'amballato bene guarda va bene ma a me non l'ha messo in una cestina vedi dove non si brazza niente eccolo che c'è scritto lì c'è scritto i regalini dai bellino rovino grazie la tiziana ne va matta di cioccolare vai guardiamo un attimino va vedi il nostro figlio va bene il pistone che me ne fa poi se lo ha smontato lui va bene facciamo riamminare due piattette facciamo riamminare questo motorino qui vai ci siamo siamo no ma da anche la pranzina ci ha messo ah questi tit da cambiare il mozza variatore questi sono uscinetti con il spessore e parole va bene va bene qui ci ha lasciato i piattettoli ah è proprio quel fintiferro io legavo tutto qua tutto nella cassetta anche se la ricina non è andata a nessuna parte tutto non è andata non è andata a seccare o qui manca il gommino eh qui manca il gommino parte ce l'ha scritto tutta insieme anche guarda la casa originale parafizionale parafizionale c'è tutto sì la casa originale per i mozzini con paese originale televisione un paese televisione un paese bronzina a pistone originale con stiger anche dietro amire aspetta ah sono qui sopra i stiger ehi signorina e va ragazzi mirano fai su tutti i controlli se lezioni servono io ho piena fiducia hai carta bianca allora lo girò così no lascio così ho carta bianca va bene deve camminare anzi no questo non deve camminare questo deve fischiare deve fischiare sì ora prima la mente ti va a cambiare il cilindrino lavora la carte e tutta stessa io c'ho da fare anche il migrillino per la prossima gara e vabbè ragazzi un saluto a tutti video veloce veloce ma sapete che quando mi arriva la scatola vedendo anche le condizioni ora questa è una scatola riabricciata ricostruita però meglio aprirla in diretta e far vedere l'effetto che fa l'effetto che fa vengo anch'io no tu no vengo anch'io no tu no ma perché perché no vabbè ragazzi io torno e mi lavoro o stamani sono stata a fare un muratore e metterò come foto metto del video metterò la foto di stamani non c'erano io c'era la tt io ero intento a fare le fotografie e c'è la tt a fare i catrame o l'asfalto quello nero quello si usa per la strada vabbè ragazzi un salutone e Elia Elia sei fantastico mitico numero uno continua così lascia la televisione accesa sempre sui miei canali un salutone da Mire ciao Elia ciao Elia